Sì, sono stato così tanto emozionato che ho sbagliato un lay-up da sotto di destro, che non c'era nessuno, potevo prendere il tempo. No, veramente, è stato per fortuna che c'erano le luci spente durante la presentazione, perché mi sono emozionato quando c'è stato veramente un boato impressionante. Mi fa molto piacere, è una cosa che mi riempie d'orgoglio. E niente, è stata una cosa bella perché oltretutto la partita sembrava che l'avessimo chiusa. Poi Cremona aveva dovuto toccare la pelle fino alla fine e poi abbiamo avuto la lucidità di portarla a casa e di finire davanti all'applauso dei nostri tifosi. È stato un bel finale. Io penso che quando uno sportivo fa una partita, che sia di palacanestro, tennis o qualsiasi cosa, entri in campo per vincere, non sta a vedere se serve per risultato o no, penso che sia lo spirito di uno sportivo. E niente, il coach mi fa piacere che ci ha ringraziato, anche io lo devo ringraziare perché mi ha dato tantissima fiducia. A volte sono riuscito a ripagarla pieno, a volte un po' meno, però mi ha dato tanta fiducia, mi ha dato la possibilità di fare tante cose in campo e quindi lo ringrazio anch'io. Sicuramente abbiamo un ruolino di marcia di otto vittorie delle ultime dieci partite. Come hai detto tu, sicuramente quello è stato un momento non facile, in cui secondo me non riuscivamo a raccogliere quello che lavoravamo in allenamento, non riuscivamo a portare a casa poi delle vittorie e quindi due punti. Più in là nella stagione siamo riusciti a farlo, penso che la testimonianza sia il fatto che al palazzetto ci divertiamo noi, si diverte la gente, si divertono i tifosi, lavoriamo bene in attacco, lavoriamo bene in difesa, si può fare certamente di più, però penso che questo sia il grosso cambiamento.